Giulio Perpetuo, atleta sulmonese ormai noto, tesserato con la Valsugana Trentino, è reduce dalla partecipazione ai mondiali juniores negli Stati Uniti. Ti sei classificato al ventunesimo posto, come giudichi questo risultato? Ti attendevi di meglio oppure va bene così? Sono veramente molto soddisfatto, poteva andare meglio sicuramente, però calcolando i vari problemi avuti nella preparazione è stata veramente una sorpresa essere lì ai mondiali, quindi sono stato fermo due mesi e mezzo proprio durante la preparazione centrale per la stagione estiva per un'infortuna alla tibia, quindi sono riuscito in giro di scarsi 30 giorni a preparare questo 10.000 che ho fatto a 30, che era la gara di qualifica per i campionati mondiali appunto e il minimo di partecipazione era 31.00 e io lì mi sono qualificato al secondo posto con il tempo di 30.47 che appunto valeva il criterio minimo di partecipazione per questi giochi. Giulio, importante è stata la riabilitazione che hai dovuto seguire, chi ti è stato vicino in questa fase? Un ringraziamento va al laboratorio motorio di Oreste di Sanza che è stato molto disponibile con le terapie che sono state veramente lunghe e anche noiose, è veramente un ringraziamento che è stato gentile e pienamente disponibile, in qualsiasi orario mi riuscivo a trovare un posto. E' stata questa la tua seconda partecipazione ad un mondiale perché l'anno scorso sei stato in Ucraina ai mondiali allievi, che cosa ha rappresentato per te questa partecipazione, questa doppia partecipazione mondiale lo scorso anno e quest'anno, quanto ha contribuito nella tua crescita? Beh sicuramente questo mondiale è stato appunto un punto di affermazione per la maglia azzurra, quindi che dire, questo qua mi fa pensare appunto in un bel futuro, in un futuro che appunto nella nazionale. L'anno prossimo sarà un anno pieno di impegni, pieno di impegni molto importanti, già diciamo dall'8 di dicembre ci saranno i campionati europei di cross, dove spero di stare, dopodiché ci saranno i campionati mondiali, nel 2015 ci saranno i campionati mondiali di cross e anche lì speriamo di farcela e infine durante sempre il periodo estivo, sempre luglio ci saranno i campionati europei su pista e anche lì vediamo di fare il meglio. Come ti trovi con la tua nuova società, la Val Sugana Trentino? Beh io allora diciamo mi trovo abbastanza bene, devo dire che comunque ho poco rapporto con loro perché essendo comunque una società del nord, io mi alleno con Giuliano Baccani a Roma, quindi diciamo mi trovo bene, mi passa appunto le trasferte, tutto quanto, diciamo mi lascia la libera scelta con il mio allenatore.